Musica Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori a PrimaTG. Andiamo con le ultime notizie. Sono 36.176 i casi di Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore, circa 2.000 in più rispetto a ieri. E invece di 653 l'incremento delle vittime in un giorno per un totale da inizio pandemia di 47.870 decessi. E' stabile invece il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ed è il 14,4%, mentre il giorno precedente si attestava sul 14,6. I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono stati 250.186, circa 15.000 in più rispetto a ieri. Fene ancora invece l'aumento dei ricoveri nelle terapie intensive. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 42 i nuovi casi. Cala anche l'incremento nei reparti di ricovero ordinari, 106 in un giorno, per un totale di 33.610. Cala il numero dei positivi in Campania. Secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale, sono 3.334 rispetto ai 3.657 del giorno precedente. Gli ultimi positivi, gli asintomatici, sono ben 3.127, mentre i sintomatici 207. I tamponi del giorno, 23.496 contro il precedente, 23.479 di 24 ore prima. In calo anche i contagi sul numero dei test effettuati. Oggi è il 14,1%, mentre ieri il 15,5%. Registrate altre 32 vittime nel periodo fra il 13 ed il 18 novembre, per un totale di 1.192. Per quanto invece riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 194 i posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili. Arriverà questa sera sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto Ristori Quater, che potrebbe valere fino a 1,4 miliardi di euro. Il nuovo scostamento di bilancio che il CDM proporrà al Parlamento andrà invece a finanziare un decreto Ristori Quater, che dovrebbe essere varato tra fine novembre ed inizio dicembre, per continuare a sostenere le attività più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. Nel vertice di stasera, slittato alle ore 19, è attesa anche la nomina del nuovo commissario della Sanità della Regione Calabria. Le somme che saranno erogate con il Ristori Ter per le attività chiuse nelle zone rosse e arancioni derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno. A base del rinvio del CDM, che era previsto per questa mattina, ci sarebbe anche la scelta di sospendere le scadenze fiscali di fine novembre e di dicembre. Si aggiorneranno nelle prossime ore i conti delle coperture necessarie e si valuterà di conseguenza l'ammontare del nuovo scostamento di bilancio. Il nuovo scostamento di bilancio, ha fatto sapere il Vice Ministro dell'Economia, Antonio Misiani, dovrebbe essere sul 2020 e potrebbe essere attorno ai 7 miliardi di euro, che andrebbero a finanziare i due decreti Ristori che hanno previsto misure per le attività direttamente coinvolte dalle misure restrittive per il Covid-19. È evidente, ha aggiunto, che se nuove regioni diventano zone rosse, questo comporta la necessità di ulteriori misure di sostegno. A Nao Assomed lancia il cosiddetto D-Day, la giornata di mobilitazione dei medici, fissata per il prossimo 23 novembre. Il sindacato Campano dichiara, in un momento di grande difficoltà, come quello della seconda ondata pandemica, ci sono deficit di organizzazione, di continui comportamenti, al limite di sostenibilità ed accessibilità delle aziende ed il silenzio istituzionale. Ci spingono a questa mobilitazione. La D del D-Day sa per diffida, che dovrà essere inviata per l'utilizzo improprio di personale e per la dignità, i diritti e decoro della professione, calpestati in questa delicatissima fase. Il sindacato dei camici bianchi regionali conclude, non accettiamo la mancanza di tutele per chi deve curare i cittadini. Non ci tiriamo indietro, ma pretendiamo di poter erogare cure in sicurezza. Se si ammala il medico, il rischio è poi di tutti. Sono oltre 700 le persone che hanno ricevuto in modo indebito il bonus spesa per Covid-19, dichiarando difformamenti alla realtà che non avevano disponibilità economica per acquistare beni di prima necessità. L'agenzia ANSA scrive che queste persone sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Napoli, che hanno riscontrato anche congiunti di esponenti della malavita. Sono state irrogate sanzioni per indebita percezione di erogazioni pubbliche per oltre 250.000 euro e sono state già avviate le pratiche per il recupero delle somme indebitamente percepite. Lampante il caso di una signora scoperta dalle fiamme gialle che aveva presentato attestazione ISEE di 4.895 euro, quando in realtà era di 67.000 euro. Sui propri conti aveva 325.000 euro e un patrimonio immobiliare di circa 36.000 euro. Aveva fatto scalpore la notizia del decesso di un anziano nei bagni dell'ospedale Cardarelli di Napoli, ripreso con il telefonino da un altro paziente che si trovava in corsia. I colleghi della Repubblica riportano la notizia che anche il secondo paziente, un 84enne di Portici, che si intravede nel video stesso su una barella, è deceduto in queste ore. Nell'ambito delle operazioni di controllo contro lo smaltimento illecito e roghi di rifiuto industriale nella zona Terra dei Fuochi, intervento delle Forze dell'Ordine nei comuni di Giuliano, Maddaloni e San Marco Evangelista. Sono entrate in azione, si legge in un comunicato, 27 equipaggi per un totale di 63 interforze. Controllate anche tre attività imprenditoriali e commerciali, di cui una sequestrata, 95 persone identificate, di cui 5 denunciate, tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali. 7 di queste poi sanzionate. 72 auto e autocarri sono stati controllati, di cui 3 sequestrati e 2 sanzionati. Circa 200 metri quadri di aree sequestrate ed oltre 16 mila euro di ammenda. La ricerca di bombole di ossigeno da destinare ai pazienti malati di Covid-19 si sta trasformando in un'emergenza nella già complessa situazione pandemica. Fonti di Federpharma confermano che a Napoli l'aumento della domanda è di oltre il 400%. I farmacisti hanno rinnovato il loro appello a chiunque sia in possesso di bombole di restituirle per aiutare i più bisognosi. Sono 678 i nuovi casi certificati di coronavirus a fronte di 3.325 tamponi processati, pari al 20,4%, con totale dei positivi da inizio pandemia, che raggiunge la cifra di 23.819 unità. Purtroppo ci sono anche altri 7 decessi che portano i morti da marzo a 192. I morti erano residenti ad Aversa, 2, Santa Maria, Vico, 2, Casapulla, San Felice a Cancello e San Marcellino. I maggiori contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati a Caserta ed Aversa. Archiviata la pratica nazionale, si torna in campo con la Serie A. Già nel fine settimana un big match previsto al San Paolo tra Napoli e Milan, due tra le compagini più in forma di questo avvio di stagione. Una buona notizia da Castelvoltuno arriva da Timuè Bacayoko, che ha smaltito lo stato febbrile ed è tornato ad allenarsi. Il francese si è riaggregato in gruppo, svolgendo un lavoro personalizzato insieme all'Ozzano, Fabian Ruiz e Mario Rui, tutti rientrati dalle nazionali. Colmina Naut, Ospina, giocherà quindi Meret, Isai, Ramakmani e Ozymen. Per quanto concerne invece la situazione per i rossoneri, Pioli e Murelli non saranno in panchina, quindi ci sarà spazio per Daniele Bonera. Leao ha riportato una lesione al bicipite femorale e sarà fuori circa 14 giorni. Romagnoli stringerà i denti e sarà regolarmente al centro. Rientrerà anche tra i convocati Musacchio. Chiudiamo adesso sempre con il calcio perché è stata decisa la data della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, che si dovrebbe giocare il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Sassuolo. Per questa edizione di PrimaTG è tutto. Appuntamento ad oggi pomeriggio sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.